Siamo dotati Gesù e Maria, come abbiamo accennato, e adesso le carissime, più volte stiamo celebrando la Santa Messia in onore di Maria Vergine, Regina dell'Universo, con messa votiva perché il calendario liturgico riformato da Paolo VI e poi vede una celebrazione ad hoc in questa messa, il 22 di agosto, cioè la settimana dopo l'assunzione, l'ottava dell'assunzione, questo è il quinto mistero del Rosario, completa il quarto dell'assunzione e la legalità. Oggi è il primo sabato del mese, il tempo ordinario, quindi si può celebrare la Massa Votiva, il nome della Madonna, ho pensato di celebrare questa, dove contemplare Maria sempre sotto questa stessa veste di Regina a fianco al Re, al momento che domenica scorsa è stata la festa di Cristo Re, quindi riprendere le considerazioni su Cristo Re dell'Universo e comprendere quindi anche perché Maria è la Regina, è il Vergine e la Regina dell'Universo. Nella prima lettura abbiamo ascoltato, la splendida pagina, che ascolteremo il giorno di Natale, il popolo che cammino nelle terre perché vede una grande luce di questo grande Re, il più grande principe che sorge sulla terra e che è il principe della pace e la cui pace appunto la loro affine sul trono di Davide e sul regno che viene a consolidare. Ora noi dobbiamo sempre dire presente una cosa, che Gesù non è re per natura, o non mi scandalizzate o non saltate sulla sedia, perché Gesù è re per natura in quanto meglio di Dio, in quanto Dio abbia la regalità sul universo intero che ha creato, non c'era bisogno che si facesse un uomo. Ma quando noi contempliamo la festa di Cristo Re, noi non contempliamo l'essere re per natura, ma per conquista, come si dice tecnicamente. Poi Gesù è diventato il re dell'Universo perché sarebbe evitato come un uomo, per quello che ha fatto come un uomo, come dice San Paolo, obbediente fino alla morte e alla morte di croce, per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato un uomo che ha visura di ogni altro uomo. Cioè la regalità universale di Gesù non deriva dal suo essere Dio, ma deriva dal suo essere il numero uno in assoluto, in quanto uomo, per la perfezione assoluta con cui Lui ha impiuto sulla terra la volontà del Padre. Ora Romani a questo punto diceva, nel libro di diritto si legge così, mutatis mutatis, parliamo di Maria Santissima, mutatis mutatis significa cambiate le cose che si devono cambiare, che non sono tante, d'accordo? Quindi la Madonna è tontonita al nostro Signore e ne ha condiviso passo per passo la sorte. Però anche qui il Vangelo ci ha ricordato che la Madonna era piena di grazia, d'accordo? Ma già questa sua pienezza di grazia ne vediamo un esercizio assolutamente eroico nel Vangelo dell'Annunciazione. Per finire, ecce a Cilla, Domini, Fiat, Lix, non un verbo, non tu, noi siamo tutti qua, noi non ci rendiamo conto di cosa significa che cosa del Cielo. Non è semplicemente che bello divento la madre di Dio, ma che bello divento, e che bello, che missione diventare la madre dei dolori, capite? Perché sì, la concezione di Gesù è stata una cosa meravigliosa, il parto di Gesù è stata una cosa meravigliosa, i misteri, diciamo, biologici, ma questo terminava sul Calvario, e lei lo sapeva molto bene, e dire di sì non era dire di sì semplicemente a una grandissima gioia, ma era dire di sì al più grande dei dolori. Quindi raccontempiamo la Madonna e le veste di Regina, perché pure lei, l'essere Regina, se lei è conquistata dalla perfezione, direi, va rasando dal Nuovo Testamento, di una vita indefettibile, è assolutamente perfetta. Terzo puntato di smutatis, cosa significa? Che noi renderemo con Cristo, tanto quanto, cioè, non siamo meritati, qui non si tratta di parlare dei meriti, come dire, in senso giuridico, in senso legale, in senso di stretta giustizia, no, ma di comprendere che questi misteri spostano l'attenzione dalla grazia che il Signore dà, che ovviamente ha coluso che noi facciamo. Noi regniamo con Cristo, già su questa terra, renderemo con Cristo in cielo, a seconda di come usiamo, rispondiamo, più o meno bene alla grazia che il Signore ci fa. Capite? Chi risponde bene, bene, chi risponde male, è male. Quindi anche la nostra vocazione di regnare con Cristo, questo è evidentissimo nel Nuovo Testamento, dipende dalla nostra risposta, grazia. Così come anticipiamo, io diremo, nella meditazione, il regno della Divina Volontà, si capisce benissimo dagli scritti, è qualche cosa che si, come dire, in un certo senso, conquista gradualmente, con la nostra quotidiana fedeltà, a le cose che il Signore, mano a mano, ci fa capire, e ci invita a fare. perché se non si corrisponde alla grazia che si afferebbe, siamo tranquilli, dentro non ci si entra, non ci sono automatismi, né ci sono, io dico sempre, perché Dio non conosce i figli dell'Ora Bianca, non li conosce, non ci sta, siamo tutti uguali, sull'aspetto. Capite? Perché? Dice, ma come, quello ci ha avuto tante grazie, a chi molto votato, molto sarà chiesto, molte grazie, significano molte cruci, meno grazie, significano meno cruci, è un'area che Dio su questo qui, non si fa fare scuola da nessuno, capite? Quindi, non esistono, quindi, te lo capite, esistono tutti quanti, e siamo tutti quanti uguali, e tutti chiamati a corrispondere perfettamente, alle grazie che Dio ci ha dato, poche, o molte che siano, grandi, o piccole che siano, e da questo dipende, la nostra vita terrena, e la qualità della nostra vita terrena, e la nostra salute, e la nostra salute. Siamo adorati, Gesù e Maria. Siamo adorati.